Ricorso al TAR per un posto non ottenuto all'asilo nido per un bambino di tre anni che vive con due adulti ma soltanto uno è formalmente il genitore. Una questione spinosa perché il regolamento ha concesso meno punti per l'accesso all'asilo nido rispetto a quelli assegnati a chi ha entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno. Per il comune di Ancona la mamma vive con un'altra persona a cui si è unita civilmente quindi non sono due genitori ma uno solo. Differentemente i punti per il lavoro a tempo pieno vengono assegnati solo se entrambi risultano genitori. Il caso è nato da un ricorso presentato dal genitore di un bambino che ha fatto richiesta per essere ammesso nei nidi comunali e il bambino ha ottenuto un punteggio tale da non poter al momento essere inserito perché si trova in una parte un po' più bassa di questa graduatoria. L'avvocato Andreoli spiega perché secondo lei non esiste alcuna forma di discriminazione. Non si tratta di discriminazione ed il caso è veramente molto più semplice di quello che sembra perché nella domanda per l'inserimento del bambino è stato indicato che il bambino avrebbe entrambi i genitori che lavorano fuori comune. In realtà questo dato non corrisponde alla situazione anagrafica del bambino in quanto in realtà il bambino risulta al momento avere in un genitore. L'altro genitore in realtà non c'è per cui questo punteggio che la mamma del bambino voleva vedersi attribuito per forza di cose non è possibile attribuirlo. È chiaro che nessuno discrimina nessuno anzi a maggior ragione le mamme single in particolari condizioni ovviamente di bisogno qualora non hanno altri componenti all'interno del nucleo familiare hanno il punteggio massimo previsto quindi arrivano sempre tra i primi posti nelle graduatorie. La coppia chiede che il regolamento tenga conto delle diverse tipologie di famiglia mettendo il bambino in sovrannumero mentre il TAR ha negato la sospensiva fissando l'udienza del merito per il prossimo 10 ottobre. A breve ci sarà invece la vera e propria sospensiva davanti al TAR Marche in cui appunto si discuterà un po' più approfonditamente la questione ma ripeto è veramente una questione molto semplice cioè lo status giuridico di questo bambino è differente rispetto a quanto è stato indicato nella domanda per l'ammissione all'asilo.